Immaginati il classico ragazzino, il classico ragazzino spende le ore a scrollare su TikTok, video dopo video, topic dopo topic, ha l'attenzione media di 30 secondi, dovrebbe fare qualcos'altro nella sua vita, dovrebbe andare in palestra, vorrebbe aprire un business online, vorrebbe fare delle attività produttive, ma continua a stare ore e ore a scrollare sul suo account TikTok. Non riesce a smettere, anche se dice questo è l'ultimo, questo è l'ultimo, il prossimo è l'ultimo, alla fine va avanti per una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ore. Adesso immaginati un uomo, un uomo vero, l'uomo apre TikTok semplicemente per caricare i suoi contenuti che fanno sì che il suo business esploda. Dopo aver caricato i contenuti prende il telefonino, lo spezza a metà, lo butta nel cestino e l'indomani ne compra un altro per ricaricare i video e ripete questo passaggio. Perché sa che non deve usare il telefonino, sa che non può usare il telefonino, perché il telefonino, i social media, TikTok, prendono troppo la sua attenzione. La sua attenzione deve essere direzionata verso i suoi obiettivi, verso avere un fisico pauroso, far crescere il suo business e avere una salute mentale perfetta. Fin da quando sono più piccolo, fin da quando avevo dieci anni e non sto scherzando, ho sempre desiderato di avere dei miei soldi che possedessi io, perché l'avere dei soldi mi dava libertà, mi dava quel senso di pace, di libertà. E quindi ho sempre pensato, ok, devo trovare un modo per farli. Ho iniziato a leggere Padre Ricco, Padre Povero, ho iniziato a leggere libri di questo genere e ho capito che la strada per poterli fare era l'imprenditoria. Avevo questo forte desiderio, ma allo stesso tempo ero un videogiocatore, ero un videogiocatore incallito, ero uno di quei tipi che diceva, a mio figlio la prima cosa che farò fare è prendere un Pad della Play in mano, non accorgendomi che questa cosa avrebbe distrutto i miei figli. Però questa mia passione per i videogiochi mi ha portato ad avere davanti a me un qualcosa di insormontabile, un muro devastante, perché volevo fare l'imprenditore, volevo aprire una mia attività, quindi volevo provare a fare qualcosa, magari aprire un canale YouTube, provare il dropshipping, Amazon FBA, Amazon Kindle Publishing, e chi più ne ha più ne metta, ma avevo questo muro, perché ogni volta mi svegliavo e dicevo, ok oggi mi dedico alla creazione del mio business, eh però, quanto è bello GTA V, l'ho comprato l'altro giorno, ancora devo finirlo, prima giocherò un po' a GTA V, e mi ritrovavo a giocare 12, 15, 18 ore di fila ai videogiochi, per poi andare a dormire e riniziare il mattino successivo. Ho detto, vabbè, crescerò e questa cosa si trasformerà, questa cosa svanirà, è successo realmente, è svanita la mia voglia di videogiocare, o è diminuita almeno, e poi è iniziata la dipendenza dei social media. Queste cose te le sto dicendo a posteriori, ma al momento non me ne accorgevo, cioè non mi accorgevo di avere una dipendenza dei videogiochi, o una dipendenza dei social media, lo so ora che ne sono uscito, ma prima no. Iniziavo su Instagram, guardare tutte le storie dei miei amici, finivo i cerchietti delle storie dei miei amici, e le riguardavo, andavo sui post, guardavo qualsiasi cosa mi capitasse sotto gli occhi, senza, senza nemmeno che la mia mente fosse attiva in quel momento, cioè in automatico. Poi, l'uscita di TikTok, io l'ho scaricato veramente, veramente molto presto, è quello che succedeva prima con i videogiochi e con Instagram, è successo dieci volte tanto con TikTok. TikTok ha uno degli algoritmi peggiori per la tua salute mentale, uno dei migliori algoritmi per il loro guadagno. Ci sono ingegneri, ci sono informatici dietro quell'algoritmo che fanno sì che tu rimanga il più possibile incollato all'app e la personalizzano su di te, così che la droga di TikTok vada bene per qualsiasi tipo di persona. Persino mia mamma, mio padre, i miei genitori, persino a loro l'algoritmo di TikTok riesce a farli stare incollati. E non sono della mia generazione, pensa quanto è subdolo. Poi ho trovato la mia via di uscita iniziando a fare contenuti su TikTok prima di tutti gli altri, ero tipo uno dei tre creator che faceva contenuti parlati su TikTok al tempo, sono esploso, ho fatto 300.000 followers. Ho iniziato a conoscere la vera crescita personale, quando ho iniziato a vedere i primi soldi, perché mi sono accorto che non riuscivo a gestirli pur essendo appassionato di finanza. Quindi ho detto, cazzo, mi sono accorto della crescita personale, anche perché mi ero lasciato da poco in quel periodo e avevo cercato delle soluzioni. Come superare la rottura con l'ex, anche se l'avevo lasciata io. Come superare questo, come superare quell'altro? Ho visto centinaia di video, a un certo punto vedo un video di crescita personale in inglese che mi ha letteralmente cambiato la vita, che mi ha fatto capire il vero mondo della crescita personale. Ma questa è un'altra storia, è una storia per un altro video. Adesso, avendo finito con TikTok, Instagram, tutti questi altri social, e non videogiocando da anni ormai, da più di due anni, ti posso dire che non sono mai stato così bene. La mia vita è completamente diversa. Prima avevo la mente annebbiata, prima non capivo dov'ero. realmente non mi sentivo nel presente, realmente percepivo questo stato. E fin quando tu non ci esci, non puoi percepirlo. Se tu non ci esci, magari ora dici, no, no, io sono normale. Tu non capisci il mio stato mentale odierno. Il 99,9% delle persone non lo capisce, non ce l'ha. Solo uscendo da queste trappole si può veramente capire. Ma quali sono le cose di TikTok che ti tengono incollato? Principalmente sono tre. La prima cosa è l'algoritmo subdolo, che riesce a percepire qualsiasi tua microazione, anche come veramente scorri sul telefono, se stai scorrendo con una certa velocità o con più velocità, con meno velocità, per capire che tipo di persona sei, se sei reattiva oppure se sei passiva. E quindi ti consigliano il tipo di contenuto più adatto al tuo cervello. Poi ti vanno ad analizzare quello a cui hai messo like, fanno delle medie, algoritmi assurdi. Calcoli che nemmeno immagini, semplicemente per consigliarti quel contenuto che sia perfetto per te e ti faccia restare il più possibile nell'app, così che tu veda più pubblicità possibili, è così che loro guadagnano di più. Non se ne fottono un cazzo della tua salute mentale, ti vogliono distruggere e vogliono guadagnare a tuo discapito. Il secondo metodo con cui ti tengono incollato è lo scroll infinito. Non so se ti ricordi, ma all'inizio dei social media Instagram aveva una fine. Gli social avevano una fine. A un certo punto, una bella idea, mettiamo il contenuto a tutto schermo e facciamo sì che sia infinito, che l'algoritmo generi nuovi contenuti da suggerire all'infinito. Quindi non c'è una fine. Tu continuerai là a vedere, a vedere, a vedere, a consumare, a consumare, a consumare. È come in palestra quando fai i bicipiti, per esempio, e fai una, due, tre ripetizioni, impari il movimento, il muscolo prende la memoria muscolare. Riesci a fare il movimento sempre meglio e riesci a stimolarlo in maniera che cresca. Allo stesso modo, tu, guardando TikTok di 30 secondi, stai abituando, con queste micro ripetizioni, questi micro contenuti, stai abituando il tuo cervello ad avere contenuti di 30 secondi, ad avere un'attenzione di 30 secondi. Quindi non riuscirai mai a guardare un video di 12 minuti. Il 99% delle persone non è arrivato fino a questo punto. Probabilmente sei da solo. Il terzo modo in cui TikTok ti fotte il cervello e ti tiene incollato sono i per te. Prima di TikTok non esisteva una categoria per te. Sì, c'erano i suggeriti qua e là, ma non c'è proprio una categoria per te. Questa categoria, grazie all'algoritmo di cui abbiamo parlato prima, è deleteria. Più contenuti vedi e più è difficile uscirne perché più i per te saranno per te. Saranno proprio fatti su misura per te. Saranno perfetti come un vestito fatto dalla sartoria. E questa cosa è incredibile quanto sia accurata. E l'algoritmo riesce a cambiare in base ai tuoi stati d'animo. Io non so come sia possibile nel pratico. Ma quando io ho voglia di contenuti seri l'algoritmo di TikTok mi dà contenuti seri. Quando ho voglia di cazzeggiare l'algoritmo di TikTok mi dà contenuti di cazzeggio. Ma tutti questi contenuti sono per me. Sono perfettamente per me. Io non vedrò mai contenuti sull'LGBT per esempio. Invece ci sono persone che hanno tutti quei contenuti da Twitter. Ovvero LGBT, questo, l'attivismo, eccetera, eccetera. E questa cosa ti sembra wow, figa, è bruttissima perché crea quello che si chiama echo chamber. Ovvero ti fa in poche parole stare in una bolla dove tu pensi a tutti i contenuti sono così, a tutte le persone la pensano così, tutte le persone la pensano come me e non ti fa vedere la realtà dei fatti. Non è che se ci sono il 30% di contenuti in un certo modo e il 70% di contenuti in un altro modo ti fa vedere una proporzione esatta. Se tu sei per quel 30%, se tu segui molto quel 30%, il 100% dei tuoi contenuti faranno parte di quel 30%. Quindi tu penserai che quello non è il 30% ma è il 100%. Ci sono tantissime persone che pensano che i trans ormai sono tipo una persona su due quando in realtà è lo 0,0001% ci sono veramente pochi trans nel mondo però ci sono alcune persone che hanno la percezione che tutti stanno effettuando la transizione e questa cosa è devastante. TikTok può manipolarti e può riuscire a farti fare quello che vuole lui a farti credere quello che vuole lui e la cosa più brutta è che questi social vengono dati a bambini di 10 anni di 8 anni una volta ero su un treno ho visto una mamma che gli dava il tablet con TikTok a suo figlio ha praticamente dato della cocaina a suo figlio davanti a me gli ha fatto sniffare della cocaina io lo paragono a quello io stavo ero ero distrutto quando ho visto quella scena ho detto io non lo farò mai con mio figlio mio figlio può piangere può distruggermi la vita ma lui a 10 anni sarà con me a spaccare la legna fuori nel nostro terreno gigante per costruire una barra delle trazioni non sarà di certo su TikTok a scorrere delle fottute puttane adesso ti darò un'azione pratica da compiere per riuscire a smetterla con TikTok non è un consiglio che senti spesso tra questi youtuber eh mettiti il blocco dell'app no il mio consiglio e andrò dritto al punto è medita 5 minuti al giorno e lo devi fare ora appena finisci questo video la meditazione mindfulness cerca come fare online ma te lo spiego in un secondo qui chiudi gli occhi ispira dal naso ispira dalla bocca e concentrati sul respiro pensa solo al respiro quando ti accorgi che la tua mente vaga esce dal respiro ritorna sul respiro ritorna sul respiro ritorna e ritorna e ritorna e prima o poi non vagherà di molto fino a quando non sarà perfettamente concentrata sul respiro all'inizio sarà noiosissimo fare per 5 minuti niente ma lo devi fare perché appunto è il contrario di TikTok l'overstimolazione tu sei là così così o altro 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 invece 5 minuti di pace dove non fai niente dove pensi al tuo respiro dopo se pensi ad altro ritorni sul tuo respiro e questo allena la tua mente a fare una unica task è aumentare il tuo tasso di attenzione fallo 5 minuti al giorno non ti sto chiedendo 30 minuti 41 ore al giorno di meditazione 5 minuti al giorno se non riesci nemmeno a fare questo e se pensi che sia inutile sei stupido prima cosa seconda cosa non risolverai mai i tuoi problemi terza cosa non avvierai mai il tuo business online non guadagnerai mai sarai sempre succube di un capo e a proposito di ciò se vuoi guadagnare se vuoi capire come io sono arrivato da 0 a 30.000 euro al mese come io sono passato da essere completamente indisciplinato ad essere una delle persone più disciplinate che io conosca guarda qui sotto la lezione gratuita che ti spiega come sono arrivato appunto da 0 a 30.000 euro al mese e ripeto è gratuita non ti costa niente devi solo inserire la tua email poi se vuoi accedere al mio programma formativo privato quello ha un costo ma ti posso garantire che non esiste niente di simile in Italia ripeto non esiste nulla di simile in Italia ti rimborso totalmente tutto il costo del programma se tu mi provi che esiste una cosa migliore di quella non puoi farlo non esiste e ritornando a noi devi meditare meditare a 10.000 benefici ci farò dei video quindi inizia a seguirmi così poi capirai ma adesso devi fidarti di me medita per 5 minuti al giorno è l'attività che più ti dà e che meno sembra ti dia come la palestra vedi i risultati dopo 3-4 mesi che hai iniziato la meditazione è lo stesso anzi peggio ma fidati che dopo un anno tu ti accorgerai guardandoti indietro che non sei più la stessa persona e ti scenderanno genuinamente le lacrime pensando alla prima volta che hai iniziato a meditare hai riaperto gli occhi e hai visto il mondo come se fosse per la prima volta in 3D come se fosse per la prima volta vivido e non sto esagerando prova e poi fammi sapere e mi raccomando non andare su TikTok e non sto esagerando e non sto esagerando che ne faccio e non sto esagerando